benvenuti e benvenute sono serena e sono un estetista il prodotto che andrò a recensire oggi è la mousse detergente dermopurificante della Vivi Verde Coop appena ho visto questo prodotto dovevo assolutamente comprarlo perché è proprio adatto per me questa mousse è particolare perché adatta sia per il viso che per le mani ed è con estate di tea tree e di lavanda provenienti da agricoltura biologica con azione antibatterica perciò comunque potete anche lavarvi le mani per disinfettarle con questo prodotto e senza oli minerali siliconi coloranti e profumi sintetici peg e polimeri sintetici vi lascio per comodità l'inci di questa mousse così vi fate un'idea deterge in profondità e protegge la pelle esposta di viso e mani arricchita con argento citrato estratti di tea tree e lavanda che svolgono un'azione antibatterica poi ti dice applicare con un leggero massaggio sulla pelle inumidita evitando il contorno occhi sciacquare abbondantemente e applicare una crema abituale questo prodotto quindi oltre comunque ad avere un'azione dermopurificante è adatto anche per una pelle sensibile perché comunque non contiene degli ingredienti che possono irritare la pelle che so per dire lamenta che ad alcuni può dare fastidio a me per dire da fastidio anche l'aloe ma questa è una cosa soggettivo ovviamente infatti questa recensione è fatta comunque sul mio tipo di pelle può darsi che qualcuno si potrebbe trovare male qualcuno si potrebbe trovare bene non è detto comunque io a persone come me con la pelle mista e sensibile la consiglio fortemente anche perché ho provato diciamo l'altra l'altra mousse questa qui vedete che comunque questa per una pelle sensibile come c'è anche scritto qua però ecco per il mio tipo di pelle è un po leggera oddio è anche buona devo dire però non lo so sento che non me la pulisce proprio a fondo la pelle come quest'altro prodotto qui questo è molto meglio poi sinceramente a me l'odore piace anche se comunque come sapete il tea tree ha un odore comunque diciamo abbastanza forte ma in questo prodotto devo dire che sa molto tipo di limone e di lavanda vi faccio vedere com'è magari prima l'ho agitato un po ecco questo è come si presenta vedete il prodotto è una mousse diciamo molto leggera che appena all'astrofini diciamo nemmeno più si vede ovviamente la quantità la potete scegliere voi in base a come vi sentite di utilizzarla in base a la quantità che volete utilizzare quindi sicuramente se avete una pelle secca sensibile vi consiglio appunto questa qui oppure se avete una pelle come la mia mista soggetta impurità e punti neri vi consiglio sicuramente questa qui comunque più in là farò anche una recensione sull'altra mousse cosa penso io di questo prodotto per me è top mi sto trovando veramente bene con questo prodotto sono sicuramente dei prodotti da provare anche perché sono facilmente reperibili e costano comunque poco essendo che comunque sono dei prodotti biologici se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina qui sotto per ricevere le notifiche a presto